Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi volevo parlarvi di una particolarità di questo piccolo animale della fauna selvatica italiana, ovvero del tritone crestato italiano, o conosciuto tra gli esperti come Triturus carnifex. La caratteristica di cui voglio parlarvi è diciamo in qualche modo tatuata sotto il suo ventre. Infatti, se asserviamo con attenzione, possiamo notare che presenta un caratteristico colore giallo, con delle macchie nere. Prima di tutto esse sono sempre le stesse e immutabili per tutto il corso della vita dell'animale, ma soprattutto sono differenti da individuo ad individuo, proprio come le nostre impronte digitali. I ricercatori che fanno studi di popolazione attraverso grandi database con fotografie delle ventre di questi individui sono in grado di poter riconoscerli anche a distanza di anni, e quindi a stabilire l'andamento e la salute di una popolazione. La natura quindi ci fornisce un valido strumento per poter continuare nella ricerca, ma soprattutto nella conservazione di questi animali, che tra l'altro sono animali protetti che soprattutto stanno perdendo il loro habitat. Un saluto da tutte e due. Ciao a tutti i fans, questo era il mio videocasting con il quale mi sono aggiudicato l'accesso alle finali, e in seguito la vittoria della prima edizione di Mettiti a Focus, 2014-2015. Ad un anno esatto di distanza ho deciso di pubblicare questo video, visto l'apertura della nuova edizione e le tante richieste su Facebook su come ho realizzato il mio provino. Vi ricordo di seguirmi, se ancora non l'avete fatto, su Facebook e sui vari social network che trovate in descrizione. In bocca al lupo a tutti quelli che decideranno di presentare la loro candidatura. Rispondetemi con un viva al lupo e continuate ad amare la natura.